Ho iniziato a prendere i sinergi tre anni fa, avevo problemi da non campare tutti e due le mani perché stavo lavorando ore in polizia in casa delle persone, mi cascava la roba delle mie mani, sono andata dal medico e lui mi ha detto che devo fare l'intervento, però un'amica mia l'ha fatto e non è che ha risolto il problema e lui mi ha detto sì, succede che non tutti i casi uno risolve il problema. Iniziando a prendere i tre anni fa le gocci, non ne ho smesso mai, ho cominciato a sentirmi molto bene, adesso non c'è più problema con il tunnel cappare, ho risolto il problema delle ossa perché ce l'aveva da quando aveva 18 anni, mal dei pulsi, dei ginocchi, le spali, ho fatto l'intervento anche al ginocchio destro, non ho risolto il problema perché ogni quattro mesi dovevo fare l'infiltrazione, da quando prendo i sinergi ho risolto il problema.